Buongiorno signor Jack. Buongiorno, buongiorno. Allora oggi ci ritroviamo qua su FIFA e a grande richiesta dei nostri mille e mila fans spacchetteremo un po', come vedete dal mio video, un milione di crediti, tutti guadagnati vincendo le partite. Ah no, quei soldi della partnership che abbiamo già preso. Sì, anche, anche, anche. Perché per i 200.000 iscritti noi subito abbiamo preso la pasta. Guadagniamo 400.000 euro al mese noi. E spegniamo tutti in mignotte, crediti e... E cocaina, cocaina. Ah, anche cocaina, giusto. Sì, sì, sì. Allora, partiamo col primo pacchetto da 7500. Ma lei ha qualche giocatore preciso? Ma c'era quel Neymar nero che... Lei mi dice, ma Neymar non è nero, è mulatto. Esatto. Però... Uh, Benatia, Benatia nel primo pacchetto. Ho già, ho già. Però su quei 30.000 crediti... No, no, 30.000 no, vale 2.000 crediti. Comprato ieri. Ma che schifo. Inviamo tutto al club. Via, via. Via, via, via. Toi, toi. Ah, devo mandarlo questo, devo mandarlo alla listita. Scartiamo pure i Ronaldi noi. Sì, 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 sì. Tutto al club. Un altro pacchetto. Higuain. 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 E poi vicino che c'è? Che c'è? Dimmi dica. Giocatori. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Non se lo ricorderà mai. Un cazzo di niente. Ho trovato lo stemma del Venezuela e del Trabzonsport. Beh, mamma mia. Lo stemma del Venezuela? Chi è che non lo vorrebbe? Sergio Asenko. Giocatore famoso nella liga messicana. Questo lo scartiamo. No, Sergio Asenko. Uh, Alaba, Alaba. Con al fianco Hazard. Altri 7.500. Altri 7.500. Via così. Via così. Via così. Via così. Vai così. Via così. Benet Desten. La maglia degli Stati Uniti. Un doppione che è di Arra e Campl. Che l'avevo trovato nel pacchetto prima, Campl. Però... Però magari loro sono convinti che a te piace come giocatore e te lo ripropongono spesso. E la maglia degli Stati Uniti anche. Ah, ancora un'altra. Ah no, quella... Ok. La seconda immagino. è tutto scartato. Sì, 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 sì. Bene così. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo così, andiamo così. Sempre con questa velocità. Sempre con questo. Griezmann. Griezmann. Griezmann mi porta fortuna. Griezmann mi porta fortuna. Neymar Nero. Neymar Nero. Kissling. Kissling. E la maglia del Fenerbahce in casa. E... Niente di buono. Cardoso, un allenatore messicano. E Roque e Santa Cruz che avevo trovato anche prima. Bello qua. Dai, dai, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Forza, forza Azzard. 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 Portaci fortuna. Azzard. Non posso. Ecco. Qua, qua, qua c'è qualcosa. Qua c'è sicuramente... In Azzard c'è per forza qualcosa. One Jesus. One Jesus. One Jesus. Mamma mia. Madonna. Mamma mia. Che tristi. Non dirlo a me. Mamma mia. Perché sono miei crediti, sai anche com'è. Eh vabbè, noi diciamo, facciamo... Una volta che vuoi iniziare. È vero, vero, vero. Io ho detto prima le signore, poi hai detto ok. Alaba, 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 cosa mi dà? Cos'è? La Porta. Che Marco ha... Sì, ottimo... Ottimo schifo. No, no, è bravo, è bravo. Se la cava. Vai a cagare, te la Porta. È la finestra. Tutto al club. Tutto al club. Avrei voluto scartare un Cristiano Ronaldo, ma proprio scartarlo e guadagnarmi quei 650. Ma tu immagina il titolo del video. Griezmann. 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 Normale, normale però. Tu immagina il titolo del video. Scarta Cristiano Ronaldo. Cioè, secondo me è peggio che il Jesus. Sì, sì. Sì, sì. Ma chi se ne frega di Cristiano Ronaldo? Ma sì. C'hai i big money. Con i soldi della partner. Ah, questo l'ho saltato. Comunque non c'era nessuno. Quando ho aperto il pacchetto. Tranquillo. Proprio un cazzo. Ivanovic. Ivanovic. Ma chi cazzo? Ma Marco, non puoi non conoscerlo. Nella realtà è forte. Ma qua fa schifo. Eh, là. Un giocatore come un altro, dai. Ma che, ma vai a cagare. Messi, Messi sul pacchetto. Messi in a pack. Messi in a pack. Dai, anche dentro il pacchetto. Dentro il pacchetto. Messi in a pack. Messi in a pack. Messi in a pack. Suzaeta. Karik, Suzaeta e Lovren. Ho capito, Susanita. Già, già stavo a pensare male. Un cambio ruolo da T a da TT. Cura. Niente di che. Howard. Ripartiamo con Howard. Ripartiamo con Howard. Howard in a pack. Howard in a pack. Howard in a pack. Sana. Madonna. Dai. Madonna. 29 di velocità. Che schifo è? Praticamente è uno zopo. Cioè, è. Mamma mia. 74 raro. Argento raro. Beh, bene. Ci mancava il bronzo, l'avevamo trovati tutti. Sì, sì, sì. Ma magari era un argentone buggato. Invece no. No, no. Non neanche. Sagna. 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 Beh, sagna. Vabbè. Joey Barton. Salutiamo Joey Barton. Ciao, ciao. Che ci segue da sempre, praticamente. Uno dei primi iscritti. Vai, Jack. Qua si continua a spacchettare, si continua a spacchettare, si continua a spacchettare. E se non lo troviamo oggi? Caballero, Willy Caballero, portiere del Manchester City. Ah, beh. Anche se preferivo Neuer come portiere. Vabbè. Invia tutto al club, i doppioni vengono scartati. Questo viene scartato perché non si vende. Ok, un altro, un altro pacchetto con Messi. Messi, Messi, Messi. Non ho mai capito perché non c'è Cristiano Ronaldo sui pacchetti. Boh. Giorginio? Why no? No, non è Giorginio. No, niente, non c'è un cazzo di niente. La maglia della Russia. Bella, chi è che non la vorrebbe? Mamma mia. Cioè, si sta rivelando uno degli opening pack più schifosi. Schifosi mai registrati. Guarda, Fletcher. Fletcher, Nobel e Ciosic. La signorina Fletcher. Mamma mia. Cioè, due da 75, non rari sono riuscito a trovare. Ma un genio. Un osculato. Cioè, la prossima volta glielo fanno a mano un opening pack. Sì, sì, sì. Perché lui se lo merita. Con Alba. Oramai non ho più speranza. Uh, Oscar. Oscar è quadrato. Oscar è quadrato. Uh, uh, due baggadoni. In a pack. Oscar è quadrato in a pack. Mamma mia, è quadrato. Mamma mia. Vale anche un bel po', eh. Sì, ma è baggadissimo. Aspetta che guardo quanto vale. Uh. Beh, 28.000, 28.000. Non c'è male, non c'è male. No, no, no. Non c'è male. O magari lo tengo per fare un'italiana, chi lo sa. Ma sì, dai. Tanto lei non ne ha dei squadre baggate che usa. Schifo. Lezzo. Griezmann. Dermic. 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 Eh, tra l'altro nessuno. Giocatore. No, nessuno, Marco. No. Gesù Cristo, no, nessuno. Presa. Ok. Scartiamo, scartiamo questo perché ce l'avevo già. Ok, un altro Griezmann. Un altro Griezmann. Vai. Griezmann in a pack. Griezmann nero. No, Griezmann nero non c'è qui. Trovallo più. Gaetan. Nico Gaetan. Che cazzo è? Marco, allora, se tu non conosci il calcio, non giocare a FIFA. Nico Gaetan. Del Benfica. Ma che cazzo? Tra l'altro anche tre doppioni. Per non scherzare. Nico Gaetan. Ancora Griezmann. La terza volta consecutiva Griezmann. Ucce. Calu Ucce. Calu Ucce. La quarta tipo fai un glitch mezzo buggato e allora esce messo. Calu Ucce, poco, immagino. No, no, non varrà niente. Sì, 700. Sì, 100. Fai prima a scartarlo. Vabbè, io li mando tutti nella rosa. Tutti nella... Tutti nella... La chiamavano Bocca di Rosa. Che pumpina. Ancora, ancora. Hazard. Stavolta è Hazard. Vai, che Hazard porta fortuna. Hazard, Castro. Castro, Zurutusa e Bauman. Zurutusa? Chi è? La maglia del Borussia Dortmund. Vale un bel po'. Zurutusa è un giocatore della Sociedad. Fare un nome di un cartone animato giapponese. Tutto nel club, tutto nel club. Continuiamo ad aprire, continuiamo ad aprire. Vai, vai. Questo è un video tutto in divenire. Tutto in divenire. Vai, vai. Non si può, non si può fermare. Ereminko, Ereminko, Fletcher, Bernat. La maglia della Costa d'Avorio. Buona, buona. Che è utilissima. Vale qualche milione all'incirca. Sì. Io sapevo che ne valeva sei. Ah. Cioè, dopo che sono finiti i toti, sta sui tre milioni circa. Un altro pacchetto, comunque, ho trovato lo stema della Svestia. E la maglia della Costa d'Avorio ancora, ancora. Ancora, è sempre presente. Altri tre milioni. Sempre più ricchi, sempre più ricchi. Doppioni. Mettiamola in vendita, solo per vedere se c'è qualcuno che la compra, però. Ma non la compreranno. No, no, no. Tranne qualche. Higuaín. Higuaín. Higuaín, dai. Si apre. Si apre Higuaín. Chi ci trovo? Traoré. Traoré del Borussia Mönchengladbach. Vabbè. Io vorrei un giocatore nero, buggato, magari. Io vorrei un giocatore nero e basta. L'unico giocatore nero che sono mai riuscito a trovare è stato Godin. Ma nel 14, non qua. Io ero tipo un giocatore scherzissimo. Equatoriano. Oh, questo mi sa da buggato. Brizuela. Argentone con 91 di velocità. È la Madonna. 4 stelle piede debole e 4 stelle schier. Guardiamo il prezzo un attimo. Beh, sì, un pochino vale, però. Dai, Jack, secondo me, qualche tipo uno Snyder nero possiamo pure trovarlo, giusto per far figura. Ma io lo spero, ma io lo spero. Non mettiamo in vendita questo. Vai, vai. Tutto in vendita. Tutto in vendita. Tutto in vendita, tutto in vendita, dai. Anche la mia squadra la metto in vendita. Se metto in vendita la mia squadra mi faccio altri 2 milioni come minimo. Ciao Manu. Salutiamo. Sempre lui, sempre più scurato. Ma non Luca Biadini del Napoli. Santa Cruz è la terza volta che lo trovo nei pacchetti. Mamma mia. Mamma mia. Basta. Diro, basta. Querela, fai qualcosa. Dai, dai, con Howard, 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 con Howard. Dorlan Pabon, ex. Mamma mia. Ex Marco? Ti ho detto, lo ricordi dove giocava? Nell'NBA, giusto. Marco, dovete sapere che Marco non segue il calcio. Non segue il calcio. Dorlan Pabon, se non sbaglio, giocava nel Parma. Ma che cazzo l'ha mai seguito il Parma, da? Marco. Con Higuain. 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 Tyson. Tyson, bagatone dello Shakhtar, ma... Come mena. Porco Tinci, come mena. Complimenti a Tyson. Il Mazz. Ho trovato anche Burak Il Mazz. Uh, con Hazard. Con Hazard non si sbaglia mai. No, no. Hazard è sempre lui. Sempre lui che ci porta fortuna, Hazard. Uh, Raul Albiol. De Jong, Raul Albiol, Maier. Raul Imener. Niente di... No. Aspetta, così via tutto al club. Quanti crediti ci sono rimasti, c'è? 836.000. Ah, è la madonna. Ho fatto la cagata che ho scartato il Cristiano Ronaldo, però... No, non è vero. Uh, Tiago Motta. Il giocatore più lento. Lento del mondo. A replay è più veloce Tiago Motta. E anche Maxim Chupo Motting, che gioca nel... Nel... Nel Benfica. No, però ne ha trovato un altro che gioca nel Benfica. Eh, vedi? Perché io oramai prevedo il futuro. Sì, sì, sì. Sì, sì. Argenti, che non valgo nemmeno. Te neanche stavo a... A dargli l'onore di essere visti nel video. Cioè, proprio... Scarta. No, no. Un altro pacchetto. E via, 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 via. Via così, verso l'infinito. Howard... Howard mi porta a fortuna. Eh, sì, è. Rafa Marquez. Che gioca Marco Rafa Marquez? Nel Borussia Dortmund. Io ci ho provato. Mamma mia Marco, mamma mia. Io ci ho provato. Cosa lo segui? Cosa segui? Cosa segui? E allora... E te giochi a FIFA? Te giochi a FIFA e poi non sai... No, io sono fan accanito del curling, dell'ok da ghiaccio. Ok da ghiaccio, non su ghiaccio. No, da ghiaccio, perché è quello che usi per rompere i rapporti. Vabbè, apriamo l'ultimo pacchetto. Ok, ok. L'ultimo pacchetto. L'ultimo pacchetto commesse sopra. Qua ci si trova qualcosa. Questo è il pacchetto giusto. Questo è il pacchetto giusto. Giusto, giusto, giusto per trovarci Lucas Leiva e Cedric. Argentone con 94 di velocità. Non ho mai visto io questo qua. Signor Rupi? Cioè, signor Rupi. Sto aggiungendo il signor Rupi e la chiamata e vorrei aggiungere un'altra cosa, Jack. Che è sculato. No scula. Ecco, stiamo registrando, signor Jack. Signor Rupi, per favore. Ci faccia il saluto finale. Il saluto finale. Vai. No. Ok, grazie Manu. Grazie a tutti. Arrivederci al prossimo video. Ok. Alaba, l'ultimo. L'ultimo. Ronaldo! 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 Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Veramente. Veramente. Non sto scherzando. Non ci credo. Sì. Sì. Non ci credo. No, Jack, fai in serio? Sì. Sì. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Sì. Sì. No, non ci credo. Io canto. Tu l'ho appena trovata. Sì. Non ci credo. Non è vero. Tu ci stai burlando. Jack, con il minimo. Non lo sa il video. No. Sì. Io vi sto masturbando mentre sento queste cose. Sì. Sì. Devo fermare il video. Ci sentiamo la prossima. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.